Buonasera mister, ha un volto più rilassato rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati. Questo pareggio è soddisfatto del risultato finale? Sì, io ero soddisfatto anche della partita precedente. Poi il calcio è uno sport meraviglioso, sappiamo che può riservare sempre mille sorprese. Noi stiamo diventando squadra, quindi sappiamo che questo è un periodo particolare per noi. Ci stiamo trasformando un pochettino, stiamo cercando di lavorare su concetti nuovi, abbiamo cambiato un po' di cose. Ovviamente siamo anche un attimino ristretti con la Rosa, lo sappiamo già, lo sappiamo benissimo e anche la squadra lo sa. Quindi sappiamo che durante la partita delle cose sono difficili da gestire. Ma io devo fare solo i complimenti alle ragazze che hanno dato tutto. Io in conferenza avevo detto che questa squadra cercherà sempre di onorare la maglia, onorare la città, onorare lo stadio e penso che lo stiamo facendo. Abbiamo incontrato due squadre fortissime che andranno per il campionato e penso ce la siamo giocata anche alla pari. Verissimo. Abbiamo retto alla grande fino al momento in cui ovviamente lei si è dovuto girare e cercare delle forze fresche in panchina. A che punto siamo, so che non è legato diciamo strettamente alla partita, ma a che punto siamo con il recupero delle ragazze che servono appunto per in qualche modo riuscire a trovare delle forze che ci mantengono il risultato? Sì, faccio una premessa che io avevo detto alla squadra, c'è l'attaccante dell'Inter che non giocava da un mese e mezzo. Ovviamente è entrata con noi, c'è a Winga che stava bella ferma, tranquilla, e oggi ce la siamo ritrovata contro ed è stata devastante. Poi quando è entrata a partita in corso, io avevo detto loro, l'allenatrice è una allenatrice molto brava e capace, aveva studiato, aveva lavorato su questa soluzione qua, non avendo i 90 minuti nelle gambe, la ragazza l'ha messa negli ultimi 15 minuti, ma ha tutto un altro passo. È una che quando accelera fa male, ha fatto un gol strepitoso e poteva farne un altro, e siamo stati bravi a reggerla nei nostri limiti. La squadra delle ragazze, oggi è un'altra notizia importante, che Marciao, che per noi è una giocatrice fondamentale, ha tolto il gambaletto di gesso. Lo so che ce ne vuole ancora tanto, però abbiamo visto un pochettino di luce. Cox non l'abbiamo voluta rischiare per l'orario, per l'umidità che ci poteva essere stasera, è una giocatrice che da domani si allenerà a pieno regime con la squadra, e per Sassuolo ce l'abbiamo. I numeri non stanno, la cosa importante è che i numeri non stanno crescendo delle infortunate, ci siamo stabilizzati e stiamo recuperando. Anche Maia, che con la Juve era entrata negli ultimi due minuti, ha fatto una settimana in più di allenamento, un'altra giocatrice molto importante, oggi ha fatto un 20 minuti ed è disponibile ancora di più per Sassuolo. Ma poi ci sono calciatrici, Farelli, Williams, Bardin, che non avevano un minutaggio molto elevato e ancora non ce l'hanno. Fare partite del genere, dove la fase difensiva è fondamentale, dove si corre sempre dietro la linea della palla, dove si raddoppia, si triplica, perché giochiamo con avversarie molto capaci, alla fine poi ci rende vulnerabili. Quindi è un punto d'oro che ci teniamo stretti e dobbiamo pensare positivo perché ci siamo. Rispetto alla gestione precedente, lei ha dato spazio e subito fiducia a giocatrici che erano state utilizzate poco, non per motivi di infortuni, ma proprio erano rimaste in panchine. Ha delle risposte importanti, ha citato la Williams, ha citato la Farelli, ha fatto delle scelte tattiche anche diverse con la Jelenic centrale, insomma si vede già la sua mano su questa squadra. C'è stata sempre la piena disponibilità delle ragazze. Io dal primo giorno che sono venuto a Collecchio ho potuto constatare la voglia e la determinazione che avevano. Ci siamo ributtate tutti insieme in un progetto nuovo. Ho avuto la gioia e la fortuna stamattina di conoscere anche il Presidente, che per noi è importante che ci sia vicino. E anche per fargli capire questa voglia e questa determinazione che hanno queste ragazze di togliersi da questa posizione di classifica che non ci rispecchia. Noi sappiamo le nostre qualità, sono sicuro che usciremo fuori da questa situazione anche perché dobbiamo stringere i denti per queste due partite che saranno difficili, ma molto importanti per arrivare alla sosta di Natale con molta fiducia e soprattutto con qualche calciatrice in più. Ultima domanda, che più che una domanda è una cosa carina. Ne stavamo parlando prima in tribuna stampa. Ogni qualvolta il Presidente è stato presente, vederle partite, sono arrivati dei punti. Bisogna dirgli di venire più spesso. Abbiamo parlato stamattina col direttore. Gli ho detto presto, cerca di venire più spesso. Ci sarà, non voglio dire, meglio che non... Sono napoletano e sono superstizioso, quindi non so se ci sarà Sassuolo. Spero che venga e spero che il trend positivo possa continuare con il Presidente. Mister, ne faccio una domanda anch'io, sono Vittorio Rotolo della Gazzetta di Parma. Mi è piaciuto molto personalmente l'atteggiamento della squadra anche dopo il primo gol. È sembrata più sbloccata anche psicologicamente, d'accordo? Sì, sono pienamente d'accordo. Sapevamo alla fine del primo tempo che io gli ho detto ricordiamoci cosa è successo una settimana fa. Stavamo nello stesso punto, punto di partenza. E ricordiamoci come ci siamo sentiti il sabato sera e la domenica. Ho dato un giorno di riposo in più proprio perché poi le donne sono molto particolari in questo. Ci tengono molto di più e ci restano molto più male. Quindi le ho fatte un pochettino, sono state tranquille, hanno sfogato un pochettino a casa con i loro cari e sono venute belle cariche del giorno dopo, dopo abbiamo iniziato l'allenamento. Mister, mi riaggancio a questa riflessione. Era preoccupato da un possibile contraccolpo psicologico dopo la partita con la Juve? Può succedere chiaramente? Le avevo minacciate. Le ho detto se vedete che se vi vedo deluse da quello che avete fatto con la Juve veramente ci rimarrò male perché avete dato tutto quello che potevate dare. Se una persona dà tutto quello che ha fino all'ultima goccia di sudore il risultato poi è una conseguenza di molte cose. La squadra in questi 180 minuti ha dato tutto. Ha dato tutto, negli allenamenti dà tutto. È un momento complicato e difficile. Gli ho chiesto una promessa, quella di non pensare a quello che è stato fatto nei tre mesi precedenti ma a quello di essere propositivi perché il futuro è rosio. Questa è una squadra forte, l'ho detto dal primo giorno e più l'alleno e più sono consapevole di questo e soprattutto ne sono convinto. Grazie. A lei. Buonasera mister. Un punto d'oro sicuramente conquistato contro una grande squadra. C'è un po' di rammarico per quel 2-0 che poteva magari comportare una vittoria assolutamente importante quindi tre punti contro una delle squadre che sicuramente possono essere tra le vincenti di questo scudetto. Sì, noi siamo un po' vulnerabili adesso dal punto di vista caratteriale. Il gol li abbiamo subiti perché ho fatto un discorso anche dopo che abbiamo preso l'1-1 con la Juve è come se avevamo perso. In quella frazione di secondo li ho visti a terra, mani nei capelli quando poi anche quello poteva essere un punto importante. Mancavano 30 secondi e stava succedendo la stessa cosa anche oggi. Se la partita fosse durata un pochettino di più. Lì siamo stati bravi e lucide in quelle 3-4 palle inattive dove sono passati 2-3 minuti sull'angolo, punizione esterna con Alice Benoit, con Martinovic, con Eru che abbiamo tenuto palla e abbiamo fatto passare un po' di tempo perché loro avevano fresche nuove e noi avevamo zero energie fisiche e mentali quindi è un punto d'oro e non c'è rammarico perché sono convinto che i punti arriveranno. Sicuramente il carattere si vede e si vede anche un netto miglioramento dal punto di vista psicologico questo possiamo dirlo nel senso che le giocatrici sembrano in campo molto più convinte. Sì, ripeto, dal primo giorno le ho viste convinte, determinate, vogliose di cambiare gli ho chiesto in queste prime partite soprattutto di avere carattere non abbiamo avuto tanto tempo per fare altro lavoreremo su altri aspetti dobbiamo tenere un pochettino più la palla dobbiamo lavorare un pochettino più di qualità dobbiamo spingere un pochettino con gli interni di centrocampo molte volte spingiamo solo con i tre davanti e siamo molto prevedibili ma questo lo sappiamo ora dobbiamo fare un po' di necessità virtù anche perché in Rosa attualmente abbiamo solo tre punte quindi è pure difficile portarle finite per tutta la partita dobbiamo gestirci loro devono gestirsi durante tutti i minuti della gara e non è facile anche perché sono vogliose di dare tanto e molte volte vogliono strafare dobbiamo stare tranquilli e lavorare come stiamo facendo grazie mille a mister Domenico Panicolo la nostra sala stampa prosegue ora con la conferenza di Maria Banusic autrice del gol del temporaneo 2 a 0 buonasera ciao Maria buonasera allora è arrivato il primo gol con la maglia crociata felice soddisfatta o non tanto posso rispondere in inglese? proviamo proviamo sono felice per il primo gol con Parma? sì sono felice ma non ci ha dato 3 punti quindi è un po' più dolore infine hai iniziato a giocare due gioco una in ogni una qual'è il tuo fisico condizione? ho iniziato non mi sento ancora 100% ma trattiamo bene faccio individuamente quindi è iniziato Iukambiaghi e Martinovic sono i tre Moschettieri qui in Parma. Com'è la sensazione con i due giocatori? Abbiamo una sensazione molto buona tra l'altro. Praticiamo bene e spero che in i giocatori facciamo più, scorreremo più, ma anche troviamo più in attacca. Il prossimo giocatore è molto importante. È contro Azzuolo. Il primo giocatore della Serie A contro Azzuolo. Quali sono le sentimenti di questo giocatore? Ora sono ancora le sentimenti di questo giocatore. Ma domani stiamo lavorando di nuovo, quindi iniziamo a pensare a Sassuolo. Ma questo è un giocatore che dobbiamo vincere. Credo che c'è molto positiva da questo giocatore. Quindi continueremo e spero che vinceremo. C'è un giocatore molto difficile per Parma contro l'Inter. Quali sono le sentimenti del spogliatoio? del spogliatoio? Al fine di questo giocatore? Il giocatore del giocatore? Il giocatore del giocatore. Il giocatore dopo questo giocatore è stato che quando sei così vicino, ti senti che hai vinto. siamo 2-0. Quindi è facile da relaxerci. E poi l'Inter scordano due giocatore. Quindi ho un po' 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 un po'. For me, per me, per me per me, l'è qualcosa che si può parlare. Perché noi siamo così vicini. L'uvento, soprattutto, siamo più vicini. Ma abbiamo una grande probabilità questa giocatore. E in fine, non è tutto. Ma se continueremo così, I'm sure that the three points will come. Thank you. Nessuno parla inglesa?